Le ordinanze sono inefficaci secondo il prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco che ha richiamato l'attenzione dei sindaci della provincia su quanto disposto alle provvedimenti del Ministero della Salute e dell'Interno in date 20 e 22 marzo, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio della giornata dell'altro ieri. Il prefetto ha evidenziato come lo svolgimento di attività ludiche e ricreative sia vetato restando consentita solo ed esclusivamente l'attività motoria individuale se svolta in prossimità delle proprie abitazioni e nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. La Torraco ricorda che permane la possibilità di potersi spostare in comuni diversi dal proprio ma comunque nelle immediate vicinanze della propria abitazione, ove nel proprio comune non siano presenti rivendite di genere elementari, farmacie o bancomat, ritenendo come l'approvvigionamento di tali generi o il prelievo di denaro rientri tra i casi di assoluta urgenza. Sono quindi inefficaci le ordinanze in contrasto con le misure statali, in particolare quelle che impediscono di svolgere individualmente attività motoria nei limiti già previsti dalle disposizioni statali. I sindaci dei comuni Pelini, prima di adottare i provvedimenti, avevano sentito proprio la prefettura. Resta da chiarire quindi il perché di tale confusione. A sollevare dubbi di legittimità era stata la consigliera comunale di Sulmona, Elisabetta Bianchi, valutando ricorso al TAR per la limitazione della libertà personale relativa al divieto di svolgere attività motorie sportive all'aperto, nonché il divieto di attendere le esigenze primarie degli animali d'affezione, se non per il tempo strettamente necessario, e comunque in aria contigua alla residenza, domicilio di mora, del proprietario, delle stesse animali nel raggio di 400 metri, in quanto tali disposizioni appaiono suscettibili di impugnazione dinanzi al TAR per mancanza di presupposti di legge e circostanze di fatto in relazione alla consistenza e tipologia delle misure adottate. Ma in ogni caso ricordato che l'attività fisica in gruppo, quella denunciata dai cittadini e da vari organi di informazione, veniva svolta a chilometri di distanza dalla propria abitazione, la maggior parte delle volte in gruppo. Perplessità e segnalazioni non erano quindi del tutto infondate, anche se il prefetto riporta la questione nell'alveo della correttezza giuridica, sia l'attività all'aria aperta solo nei pressi della propria abitazione, fermo restando la distanza di sicurezza di un metro. Chiarita la questione, non risultano ancora evase le richieste dei sindaci sul potenziamento dei controlli e dei movimenti per l'accesso e l'uscita dalla valle, argomento che sembra interessare davvero a pochi.